L'atmosfera natalizia, mista alla magia della musica, ha portato sul palco del Teatro Radar di Monopoli, mercoledì 20 dicembre scorso, un bellissimo spettacolo a cura degli alunni dell'Istituto Comprensivo Melvin Jones Orazio Comes di Monopoli, apprezzatissimo dei genitori, tant'è che in conclusione il direttore dell'orchestra ha eseguito due bis. Magnifica è stata l'orchestra sinfonica composta dai ragazzi, impeccabili sono stati i brani scelti ed eseguiti. Il palco, animato dalla passione e dalla dedizione di questi musicisti in erba, ha regalato tantissime emozioni. La platia e la galleria del teatro erano gremitissime, si è respirata aria di festa, un anticipo del Natale che ha trasformato questo concerto in un viaggio musicale, un'esperienza che ha toccato i tanti cuori. Le note armoniose e le voci potenti sembravano di connessione fra loro. Si è rivelato un ottimo modo per celebrare le festività imminenti, mettendo nelle condizioni gli studenti che si sono tanto impegnati di dimostrare che la musica può essere un veicolo potente per suscitare ricordi indelebili. Questo è uno degli appuntamenti immancabili e tanto attesi da parte di tutta la nostra comunità scolastica. Quello del concerto dell'orchestra giovanile che puntualmente a Natale, così come a fine anno, conclude un po' tutte le attività sia del primo periodo del primo quadrimestre che a fine anno del secondo quadrimestre. Quanto è durata la preparazione dei ragazzi durante tutto il periodo dell'anno scolastico? Non moltissimo perché le vacanze di Natale arrivano presto, per cui non c'è tantissimo tempo, però loro sono stati bravissimi, sempre efficienti e pronti. che sarà un concerto molto particolare, saranno dei racconti sulle tradizioni delle musiche di ogni parte del mondo e soprattutto delle lingue affrontate nella nostra scuola, perché nella scuola studiamo l'inglese, lo spagnolo e il francese, come altre lingue. Avremo una voce narrante, avremo tantissime sorprese. What a Wonderful Christmas sarà il titolo del nostro concerto, appunto ispirato al celebre piano di Louis Armstrong, che è una nostra maniera per augurare a tutti voi buona parte. Grazie.